Un matrimonio esaltante, quello del calciatore della Juventus Federico Bernardeschi, 27 anni, che il 13 luglio a 48 ore dalla vittoria degli europei di calcio si è sposato con la compagna Veronica Ciardi, 36 anni, ex concorrente del grande fratello Dieci. I due stanno insieme dal 2015 e hanno già due bimbe, Deva, due anni e Lena. Nata lo scorso maggio, il matrimonio è stato celebrato nell'Uomo di Carrara, mentre a ricevimento in un stabilimento balneare di proprietà del calciatore a Marina di Carrara. Fotografi curiosi, ma soprattutto tifosi, hanno accolto la coppia di neosposi cantando insieme al calciatore. La Ciardi ha scelto un classico abito bianco con un lungo strascico, Bernardeschi invece ha optato per un look originale completo grigio con camicia lunga di pizzo trasparente.